Musica Da 4 anni va a Manta in Ecuador per portare avanti un progetto con le suole del Cotto Lengo. Sì, è iniziato alcuni anni fa questa esperienza grazie a un corso che abbiamo fatto con l'Ufficio Missionario Diocesano. Abbiamo costituito un gruppo di ragazze e ragazze che hanno deciso di recarsi in Ecuador per sostenere la missione delle suole del Cotto Lengo. In particolare io vado ogni anno perché porto avanti un progetto di prevenzione dell'AIDS e cerco di dare una mano nell'ospedale delle suole del Cotto Lengo che vive esclusivamente di provvidenza. Una provvidenza che proviene quasi esclusivamente dall'Italia. Dobbiamo pensare che non esiste un sostegno da parte dello Stato, quindi tutto proviene dagli aiuti che riescono ad arrivare là. Sono necessarie tantissime cose, le lenzuola, le asciugamani di cotone, ma anche proprio quelli che sono gli strumentari classici utilizzati all'interno di un ospedale. In questo momento stiamo raccogliendo dei fondi per riuscire a creare un impianto di ossigeno centralizzato che è fondamentale laddove ci sono dei pazienti o in fase terminale o anziani o appunto malati di AIDS. Attualmente vengono utilizzate delle bombole che vengono ricaricate ma sono decisamente ingombranti e anche pericolose. Il problema è che il costo è molto elevato, sono 25 mila dollari e quindi cerchiamo di fare delle piccole raccolte fondi con delle spettacoli teatrali di alcune compagnie che si offrono gratuitamente o se c'è qualche benefattore che tramite sempre cottolingo Onglus riesce a fare un versamento per la missione di Manta. Abbiamo creato anche un sito che è possibile visualizzare inserendo nel motore di ricerca di Google Missione Ecuador. L'ultimo progetto riguardava proprio una campagna contro l'ADS. Sì esattamente, la povertà porta le persone a ricercare dei guadagni facili che possono essere tramite lo smercio della droga oppure attraverso la prostituzione. Purtroppo la povertà è legata anche all'ignoranza quindi molto spesso le persone non sanno quali sono le vie di trasmissione dell'ADS. Per questo è fondamentale innanzitutto riuscire a responsabilizzare le persone, a istruirle a questo riguardo ma anche ad evitare la discriminazione nei confronti degli ammalati. Questo è fondamentale ed è un po' l'opera che fanno le suore cercando di aiutare non solo fisicamente dal punto di vista sanitario le persone ma cercando di riscattare le persone aiutandole a trovare un'occupazione lavorativa per uscire fuori dall'ambito della povertà. Altre malattie per cui si combatte? Sicuramente la tubercolosi che è una patologia molto diffusa però abbiamo anche la febbre dengue e in alcuni casi nella parte nord dell'Equador dove c'è un'altra casa delle suore abbiamo anche alcuni casi di malaria. Diciamo che l'attività principale rimanendola per 30 giorni ma non facendo un'attività solamente di 8 ore come succede nell'ambito lavorativo si viene proprio a contatto con le famiglie che è un po' l'attività che svolgono le suore cercandosi in visita personalmente nei vari barios alle persone povere, ammalate si riesce proprio a percepire come si vive in queste popolazioni povere che nonostante non abbiano nulla però hanno una felicità di fondo. Qual è l'attività delle suore nei barios? La caratteristica delle suore del cottolengo è l'operare nella carità come fanno qui a Torino e in tutta Italia e anche in altri paesi del mondo. In Ecuador a Manta in particolare si occupano della cura delle famiglie e del sostegno delle famiglie che vivono in povertà quindi proprio la visita singolarmente nelle varie case, la diffusione della parola di Dio, la cura della catechesi, l'aiuto nel doposcuola ai bambini bisogna pensare che c'è una grossa quantità di bambini tant'è che fanno addirittura tre turni nelle scuole fino a tardasera e soprattutto l'aiuto e il sostegno all'interno della struttura sanitaria che si chiama Fondazione Cottolengo. Il loro spirito missionario è quello che percepiscono dal loro fondatore che è San Giuseppe Benedetto Cottolengo ed è un po' quello che ci chiede Papa Francesco quindi di recarsi nelle periferie per riuscire a vivere una chiesa viva e a sostenere questa chiesa missionaria cercando sicuramente di portare la felicità del messaggio cristiano ma anche di sostenere le famiglie nel riuscire a proseguire il loro cammino cercando di riscattarle, non sostituendosi a loro ma dandogli proprio delle opportunità come per esempio l'istruzione, come succede a Esmeraldas nel nord e proprio una cura laddove non c'è possibilità di sostenere le cure perché lo Stato non garantisce un servizio sanitario efficiente. Grazie a tutti!